Salve a tutti amici di Campania nel pallone, siamo alla vigilia di Napoli-Genoa. Azzurri che dopo l'esordio vincente a Parma faranno il loro debutto stagionale allo Stadio San Paolo davanti a mille spettatori che saranno posizionati tra Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo. Dunque seppur in piccolissima parte ritornerà il pubblico sugli spalti di fuorigrotta. I biglietti non sono stati messi in vendita per i tifosi comuni ma verranno regalati agli sponsor. L'auspicio ovviamente è quello che in vista della prossima gara casalinga del Napoli, ovvero per Napoli-Atalanta, possa esserci una maggiore riapertura. Bisognerà vedere se il Comitato Tecnico Scientifico approverà il protocollo che consentirebbe l'apertura del 25% della capienza di ogni stadio. Domani sarà una partita molto importante per il Napoli, una partita da vincere per provare a dare una continuità sempre maggiore ai risultati e alle prestazioni ed anche per arrivare con un'ottima iniezione di fiducia alle due grandi sfide contro Juventus ed Atalanta. E anche se siamo soltanto all'inizio, le prossime gare potranno già darci delle indicazioni significative riguardo al ruolo che gli azzurri potranno recitare all'interno di questo campionato e ovviamente allo stesso tempo anche sugli obiettivi ai quali si potrà ambire. Il Genoa ha iniziato bene il proprio campionato battendo per 4 a 1 il Crotone. La compagine Ligure ha aggiunto alla propria rosa ottimi innesti come quelli di Destro, di Zappacosta e di Piazza. Il Genoa però dovrà fare a meno del proprio portiere titolare Mattia Perin che è risultato positivo al Covid-19. Al suo posto tra i pali ci sarà Federico Marchetti. Gara certamente da non sottovalutare anche pensando alle ottime capacità tattiche del neotecnico genoano Rolando Maran che è solito adottare un atteggiamento iper difensivo facendo chiudere le sue squadre dietro la propria metà campo per poi provare a colpire in contropiede. Dunque il Napoli è atteso da un impegno sotto l'aspetto tattico simile a quello di Parma. Bisognerà attaccare ma allo stesso tempo anche avere solidità difensiva per evitare le ripartenze avversarie. retroguardia difensiva azzurra che comunque nel match del Tardini anche se è stata poco impegnata ha offerto una prova più che buona. E riguardo alla formazione titolare per Gattuso i dubbi riguardano sempre la porta e l'attacco e potrebbe essere così per l'intera stagione. Tra i pali Meret questa volta sembra essere in vantaggio su Ospina e la scelta che domani il tecnico calabrese farà potrebbe essere molto significativa e potrebbe dare importanti indicazioni su come intende gestire Ospina e Meret. Se dal primo minuto dovesse giocare nuovamente Ospina vorrebbe dire che il portiere colombiano ha definitivamente superato il portiere ex Spal nelle gerarchie di Gattuso mentre se tra i pali dovesse esserci Meret vuol dire che probabilmente continueremo ad assistere ad una continua alternanza tra i due estremi difensori così come è avvenuto nel finale dello scorso campionato. Mentre per quanto riguarda difesa e centrocampo ci sono pochi dubbi. In difesa tornerà Mario Rui che farà il suo esordio stagionale il terzino portoghese ha saltato la partita di Parma a causa di qualche acciacco fisico e per il resto a comporre il quartetto difensivo ci saranno sulla destra di Lorenzo e centralmente Manolas e Coulibaly. In mezzo al campo il trio di centrocampo dovrebbe essere il solito ovvero quello composto da Fabian Ruiz Demme e Zielinski però sembra esserci anche qualche piccola speranza per Lobotka di partire dal primo minuto al posto del centrocampista italo-tedesco. E poi i maggiori dubbi riguardano l'attacco sulla destra addirittura c'è un triplo ballottaggio tra Mertens, Politano e Lozano ma questa volta sembra prendere quota il tridente offensivo formato da Mertens sulla destra insieme ad Osiman ed Insigne e questa certamente sarebbe la soluzione migliore perché Osiman quando a Parma ha fatto il suo ingresso in campo ha avuto un grandissimo impatto sul match ha spaccato la partita e da lì in poi il Napoli è riuscito a trovare fluidità di gioco e grande pericolosità offensiva Mertens poi ovviamente è come ben sappiamo un calciatore che dà sempre tante garanzie e che in qualsiasi momento nel corso di una gara può salire in cattedra Osiman e Mertens uno è l'affare più costoso della storia del club e l'altro è il calciatore che con addosso la maglia del Napoli ha fatto più gol di tutti nella storia dunque è molto complicato rinunciare ad uno dei due e ripeto, come detto varie volte a mio avviso schierare il tridente offensivo formato da Mertens, Osiman ed Insigne sarebbe certamente l'opzione giusta per far coesistere Mertens ed Osiman e come detto trovare una soluzione per farli coesistere è ormai diventato necessario in questo modo potrebbe essere garantito anche un maggiore equilibrio a centrocampo che con il 4-2-3-1 non sarebbe garantito e si potrebbe avere davvero grande pericolosità offensiva e grande potenziale lì davanti Osiman che nell'ultima mezz'ora contro il Parma ha già mostrato un'ottima intesa con i compagni di reparto Mertens ed Insigne e dunque detto questo vi do l'appuntamento ai prossimi aggiornamenti qui su Campania nel pallone forza Napoli sempre e auguro un buon proseguimento di giornata a tutti grazie a tutti